Apriamo la nostra mente e il nostro cuore al dono dello Spirito Santo, che Gesù promise ai Suoi discepoli come il primo e principale dono che Egli ci ha dato con la Sua resurrezione e ascensione al cielo. Lo ha detto Papa Francesco nella riflessione prima del Regina Celi nel giorno in cui la Chiesa celebra la solennità di Pentecoste. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre affinché vi mandi un altro consolatore, ha detto il Pontefice citando il Vangelo di oggi, ricordandoci che l'amore per il Signore si dimostra non con le parole ma con i fatti, perché essere i cristiani non significa aderire ad una certa dottrina, ma piuttosto legare la propria vita in ogni suo aspetto alla persona di Gesù e attraverso di Lui al Padre. Nel promettere lo Spirito Santo, ha proseguito il Pontefice, Gesù lo definisce un altro paraclito, che significa consolatore, cioè colui che ci assiste, ci difende, sta al nostro fianco nel cammino della vita e nella lotta per il bene contro il male e che svolge una funzione di insegnamento e di memoria. Lo Spirito Santo non porta un insegnamento diverso, ma rende vivo, rende operante l'insegnamento di Gesù, perché il tempo che passa non lo cancelli o non lo affievolisca. Lo Spirito Santo inesta questo insegnamento dentro al nostro cuore ci aiuta a interiorizzarlo, facendo diventare parte di noi carne della nostra carne. Al tempo stesso prepara il nostro cuore perché sia capace davvero di ricevere le parole e gli esempi del Signore. tutte le volte che la parola di Gesù viene accolta con gioia nel nostro cuore, questo è opera dello Spirito Santo.